Le nostre imprese hanno fatto il possibile, adesso tocca a voi. È sintetizzato in questo messaggio il monito lanciato al governo in occasione dell'Assemblea 2013 di Rete Imprese Italia, che si è tenuta a Roma questa settimana. Gli imprenditori hanno perso la pazienza, non togliamo loro anche la speranza. Così si è espresso Carlo Sangalli, presidente di turno di Rete Imprese Italia, rivolgendosi al premier Enrico Letta e agli altri e numerosi esponenti del governo presenti all'Assemblea dell'Organismo Unitario di Rappresentanza del mondo delle PMI. Tasse, stretta creditizia ed eccessi della burocrazia, con la complicità di una classe politica spesso miope, hanno messo in ginocchio le piccole imprese. 27 miliardi di PIL persi nel 2013, 249 mila aziende artigiane e commerciali scomparse e tantissime in affanno per cercare di difendere innanzitutto il lavoro. Quest'anno sono a rischio altri 650 mila occupati, numeri che devono richiamare quella classe politica ad assumersi le proprie responsabilità. Un appello che Rete Imprese Italia ha ribadito affinché le ragioni dell'economia reale e della crescita, proseguito Sangalli, guidino le scelte dell'esecutivo. Taglio del limo sugli immobili produttivi, rinuncia all'aumento dell'IVA, ridefinizione della tares, riduzione fiscale, semplificazione delle norme, eliminazione del Sistri, sostegno all'occupazione, sono alcune delle richieste avanzate. Siamo qui per ascoltare e per individuare assieme le priorità, ha replicato Letta, consci che voi siete la dimostrazione delle difficoltà e nello stesso tempo del coraggio e della determinazione. Ci sentiamo tutti al servizio del Paese, ha proseguito il Presidente del Consiglio, e poiché il nuovo governo si appresta ora a muovere i primi passi, non possiamo che promettere che ce la metteremo tutta per permettere all'Italia di ripartire. E' questa, ha detto Flavio Zanonato, un'occasione importante di confronto per avviare un rapporto di collaborazione, quello che dovrà esserci tra tutte le parti sociali, per affrontare la situazione di emergenza in cui versa il Paese. Secondo il Ministro allo sviluppo economico, due sono le linee d'azione principali, stimolare i consumi e favorire gli investimenti. E a tal proposito ha chiesto alle imprese di non perdere di vista quegli obiettivi altrettanto imprescindibili oggi per lo sviluppo, innovazione e internazionalizzazione. Nell'agenda del governo, ha concluso Zanonato, ci saranno pertanto il sostegno al credito, attraverso il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia e la semplificazione normativa.